Abbiamo fatto veramente bene, faccio i complimenti alle ragazze per la prestazione, hanno interpretato nel migliore di modi la partita e basta anche pensare che abbiamo ricevuto molti complimenti da parte dello staff di Israele, anche dei tifosi e infatti su questo voglio comunque sottolineare che siamo stati trattati veramente bene, questi tre giorni sono stati utili, siamo stati bene bene insieme, bene tutto insomma, abbiamo eguagliato il risultato dello scorso anno e adesso ci presteremo a affrontare una squadra turca fatta di giocatrici che giocano quasi tutti in W, quindi sarà comunque una sfida affascinante, per certi versi impossibili però è lì che noi ci testeremo perché dobbiamo sempre voler fare un passo in più e proprio per stare in tema il passo in più è quello di riportare la testa qui e di concentrarsi per domenica dove affrontiamo la Spezia che anche se ultima in classifica è una squadra un po' cambiata a livello di roster e che in questo momento sta comunque attraversando un buon periodo perché giocano bene e quindi dobbiamo essere pronti mentalmente a essere subito sul pezzo perché dobbiamo riuscire a fare sempre un passo alla volta e avere la voglia di vincere e di fare appunto passi in avanti grazie